Due permessi per l'occupazione del suolo pubblico regolarmente rilasciati dal comune di Margherita di Savoia ma successivamente modificati e annullati dal lente con un regolamento che lede in via immediata la posizione soggettiva dei destinatari. Il Tar della Puglia si è espresso e ha affermato che i gazebo messi sul lungomane di Margherita dalla pizzeria Pleasure non presentano carattere di abusività perché in precedenza consentiti dallo stesso comune. Una vicenda che affonda le radici nel 2014 quando l'amministrazione del sindaco Paolo Marrano decise di modificare il regolamento comunale sull'occupazione di aree pubbliche e del canone da versare. Fra le attività colpite c'era anche la pizzeria di Francesco Tiritiello che aveva ben due permessi, uno del 2007 e l'altro del 2009, firmati dal responsabile comunale di servizio del tempo, l'ingegnere Savino Filannino, per occupare il suolo con dei gazebo fissati nella pavimentazione. Infatti il comune già nel 2011 è stato condannato dal Tar al pagamento delle spese processuali perché aveva ordinato a Tiritiello l'abbattimento dei gazebo incurante delle due autorizzazioni, le stesse che scagionano il proprietario del Pleasure anche questa volta. L'amministrazione commette un errore simile a quello commesso in passato dai suoi predecessori e secondo il Tar non può contestare il valore delle autorizzazioni della medesima pubblica amministrazione del 2007 e del 2009. E anche se in fondo al foglio dell'autorizzazione del 2007 c'è scritto che il comune in futuro avrebbe avuto il potere di far rimuovere la copertura a spese del titolare perché all'epoca la programmazione disciplinare per queste strutture non era ancora terminata, adesso non può più farlo in quanto l'amministrazione e il suo potere lo ha esercitato col regolamento del 2014 ma in maniera allesiva nei confronti di Tiritiello e della sua attività, cosa non permessa dal Consiglio di Stato.